Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione straordinaria del nostro amato Ponte Rosso che prevedono oltre interventi di tipo strutturale anche la riverniciatura, finalmente il nostro ponte tornerà ad essere rosso. Come c'eravamo presi l'impegno in campagna elettorale, oggi abbiamo iniziato questo tipo di intervento che è molto importante a tutela della sicurezza dei cittadini albenganesi. Troppo spesso si è pagato un prezzo molto caro all'incuria delle amministrazioni. Noi vorremmo che questo ad Albenga non succedesse.